Tutto esaurito per il musical, Chorus Line è andato in scena al teatro Petrarca di Arezzo per il Calcit. Sul palco, orchestra, corpo di ballo e attori dell'associazione Quinte tra le note per un'iniziativa del Garden Club. E devo dire che ha coinvolto tanta gente, più di 10 club, amici di categorie economiche che ci hanno permesso di fare uno spettacolo il cui ricavato andrà a sostegno del servizio scudo, cure domiciliari oncologiche, che è un servizio che costa 300.000 euro all'anno e grazie ai contributi dei cittadini è gratuito per i pazienti. Si tratta di una rivisitazione del musical che nel 1975 spopolò a Broadway. La storia è quella di un gruppo di aspiranti ballerini di fila che partecipano a un'audizione sotto lo sguardo attento di un famoso regista noto per la sua severità. Rimangono così l'izza 16 ballerini pieni di speranza e tutti disperatamente alla ricerca di un lavoro. Un pretesto è così per andare a fondo nella conoscenza dei personaggi, dei loro sogni e delle loro paure.